Un vero e proprio missione, figura polietrica particolarmente attiva nel campo artistico e musicale. Il suo percorso professionale ha fatto sì di lavorare con direttori di composizione avendo degli apprezzamenti notevoli nelle sue esibizioni. Il presidente della Fondazione, Sua Eccellenza Cavaliere Gran Croce Zeffo Busciati, già ambasciatore presso la Santa Sede della Repubblica dell'Albania, sentito il Consiglio Direttivo ed in considerazione delle qualità morali, civili, etiche e religiose che competono nella sua fede di lustre persona, ha deciso di conferire l'onoreficenza di membro d'onore al maestro Antonella Frattoffi. E con un meglio piacere e stima che consegno come delegato della regione Campania e della Fondazione questo conferimento. Grazie. 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 Inoltre, per i suoi valori artistici, consegno un secondo conferimento come membro del gruppo artistico della Fondazione. Tali conferimenti sono stati assegnati grazie a Sua Eccellenza Zeffo Busciati, alla professionista qui presente, per i quali ha potuto apprezzare le sue qualità artistiche e professionali. Congratulazioni per una futura collaborazione artistica e culturale tra la città di Cassandrino e Tirana, Repubblica d'Ambania. Auguri. Grazie. Grazie. Grazie mille. 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 Grazie mille.